Non ci resta che andare in Romagna e da oggi questa sarà la mia battaglia. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Roberto Zaffini, ha presentato la sua candidatura alle elezioni del 31 maggio prossimo. Dopo aver ricordato le migliaia di finanziamenti ottenuti in questi cinque anni, come quelli per la manutenzione del manto stradale, per la videosorveglianza, per il carnevale o quelli per il progetto a sostegno dei genitori con figli ciechi, Zaffini ha rimproverato alcuni politici. A Fano siamo l'unico punto di riferimento del centrodestra per abbandono di campo, ha detto. Infatti sono andati tutti dall'altra parte. I politici locali che ci hanno governato hanno venduto il patrimonio della terza città delle Marche per le loro misere poltrone. Oggi qui dal porto di Fano parte un ultimatum alla regione Marche. Un ultimatum che se la regione Marche veramente non prende risoluzioni e dà risposte concrete e veloci alla situazione drammatica del gragaggio del porto di Fano, ma anche dal punto di vista della sanità che sta crollando a pezzi, da qui oggi l'ultimatum è andiamo con la Romagna, perché lì i porti li dragano e lì la sanità funziona molto meglio che da noi. Come padrino per la presentazione della sua candidatura, Zaffini ha invitato Magdi Cristiano Allan, perché ha specificato il giornalista il coraggio di dire anche le cose che non sono politicamente corrette sull'Islam. Il coraggio di dire e la forza di fare era il mio slogan delle precedenti elezioni. Anch'io infatti ho denunciato le tante malefatte della regione e la maggioranza ha concluso. È sempre stata assurda le richieste mie e del mio gruppo. Magdi Cristiano Allan invece oggi ha colto l'occasione per presentare il suo ultimo libro. Ho voluto illustrare al pubblico italiano quelli che sono i tratti salienti di un testo i cui contenuti devono essere conosciuti per prendere atto della incompatibilità di fondo che c'è tra l'Islam come religione e la nostra civiltà. Fatto salvo il rispetto per i musulmani come persone, basandoci su quella che è la responsabilità soggettiva dove ciascuno risponde dei propri atti. Grazie. Grazie.